A Lucera in questa fase 2 il sindaco Tutolo continua a mantenere un atteggiamento di prudenza prorogando oltre alla chiusura della villa comunale e dei parco giochi la sospensione del trasporto pubblico locale, la riduzione dell'orario del centro raccolta rifiuti, anche la chiusura degli uffici comunali fino al 17 maggio, tranne gli uffici di stato civile, ufficio anagrafe e polizia locale. Gli ingressi agli altri uffici avverranno solo per comprovate necessità, previo appuntamento e saranno contingentati. Invece il 18 maggio parrucchieri ed estetisti in Puglia riapriranno e l'annuncio del presidente Emiliano che ha assicurato riapriranno in sicurezza prima del 1 giugno, grazie al lavoro della regione Puglia con i rappresentanti del settore, il professor Lopalco che è responsabile della Task Force per l'emergenza coronavirus in Puglia. Un lavoro fatto mantenendo sempre un dialogo con il governo, rimarca Emiliano, nel massimo rispetto istituzionale come tutti gli aspetti di questa emergenza.